Buona Pasqua dal Caffè Amaranto. Per farvi gli auguri vi prepariamo un cocktail pasquale. Il nostro cocktail viene preparato in un calice da vino, lo riempiamo di ghiaccio, lo raffreddiamo e scoliamo l'acqua di scioglimento. Aggiungiamo 10 centilitri di prosecco, 5 centilitri di passoa che è un liquore a passion fruit, altri 5 centilitri di liquore ai fiori di sambuco e finiamo con ginger ale. Mescoliamo delicatamente e per decorazione aggiungiamo mezza fetta di e una spirale di limone. Prego!